Il Consiglio regionale al lavoro per gli ultimi provvedimenti. L'Assemblea approva in aula normative urgenti prima di chiudere la legislatura. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti. Obiettivo superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2020. Aggiornato il regolamento dell'Assemblea legislativa, approvate le modifiche che recepiscono la riforma dello Statuto regionale. Bentornati all'appuntamento con la nostra informazione. Dunque, ultime giornate di lavoro per il Consiglio regionale delle Marche che si appresta a chiudere la nona legislatura. Nel corso della seduta di questa settimana sono stati esaminati e votati numerosi provvedimenti. In materia edilizia, l'Aula ha dato il via libera con 24 voti favorevoli e 4 contrari all'aggiornamento e alla semplificazione della normativa di settore. Tra le novità, l'incremento dell'edilizia libera per i piccoli interventi e il recupero dei sottotetti. Aggiornata anche le norme sui controlli e sulle ispezioni degli impianti termici e la legge del 1997 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Tra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di questa settimana, il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti. Un atto amministrativo di valenza pluriennale sollecitato dalla Comunità Europea. I dettagli nel servizio di Carla Colella. Punta l'aumento della raccolta differenziata dall'attuale 64% a oltre il 70% al Piano di gestione integrata dei rifiuti approvato a maggioranza dall'Assemblea Legislativa. L'atto che a valenza pluriennale adegua fino al 2020 la programmazione regionale alle disposizioni comunitarie. Tra gli obiettivi il potenziamento del porta a porta, al miglioramento delle prestazioni tecnico-ambientali degli impianti e la riduzione dello smaltimento in discarica. Il numero degli impianti, ha spiegato il relatore di maggioranza Enzo Giancarli nel presentare il piano, è stabilito dalla Regione, mentre le localizzazioni vengono decise dagli ambiti territoriali ottimali. Non siamo in presenza, ha sottolineato Giancarli, di nuovi termovalorizzatori, ma di vari scenari che saranno stabiliti dagli ambiti. Critico il relatore di minoranza Massimo Binci, preoccupato per un'eccessiva spinta nella direzione della valorizzazione energetica degli scarti, a discapito della raccolta differenziata. In chiusura di seduta, il Consiglio regionale ha approvato anche le modifiche al suo regolamento interno. Le nuove norme recipiscono la riforma dello Statuto regionale e puntualizzano alcuni aspetti tecnici sul funzionamento dell'Assemblea. Specificate le deleghe delle commissioni consigliari, che dalla prossima legislatura passeranno da 6 a 4. Alla Commissione Affari Istituzionali è stata affidata la delega del bilancio, mentre le politiche comunitarie saranno di competenza della Commissione Sviluppo Economico. Bene, si chiude qui questo nostro appuntamento con informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci.